Il momento dei invitati e dei vicini a Caterna è prima facerata per partecipare a questo tanto di manifestazione. Noi siamo felici di essere qui oggi perché quello che è successo non è giusto. Vi ricordo, 18 settembre 2008 hanno ucciso a Castelbonturno 6 invitati e chi non hanno fatto niente. Oggi, 10 anni dopo, è facerata la nostra paratemi. Noi vogliamo dire che dobbiamo complicare questa lotta per dire no al razzismo, no al fascismo. Noi siamo contrari a questo fatto. Oggi siamo qui per condividere la battaglia, per dire che gli italiani invitati dobbiamo continuare per combattere questo fascismo e questo razzismo a livello dell'Italia. Non si può dire di speranza per dare i vicini, non è giusto per un fatto politico. Ci sono i vicini, oggi, ci affrono tutti che non possiamo negare l'utilizzazione di questi vicini di questo paese. Hanno ardato l'economia di questo paese, hanno ardato l'economia di questo paese e oggi sono stati in mare. Non è giusto che ci sono fatto. E vi ricordo, a Caserta, il movimento degli immigrati sociali, tutti gli italiani, stanno facendo un grande lavoro per il diritto e un salario garantito per tutti. E questo è quello che vogliamo di soprenere, questo è l'integrazione che chiediamo. Oggi, ci sono i migrati a Caserta, lo diciamo anche, di fare un percurso geografico per i bambini italiani che vanno a scuola. E tutto è molto importante, è un equilibrio sociale. Oggi diciamo che i bambini italiani, del francese, dell'inglese e del simbolo anche i gestici italiani a tutti i bambini verso di noi. E' molto importante che c'è la federazione. Oggi diciamo che Macerata e tutti gli italiani dobbiamo essere uniti per combattere. e dobbiamo capire come dobbiamo andare avanti per combattere in giustizia in giustizia in giustizia in giustizia. Ragazzi, dobbiamo sbagliarsi. I politici stanno qui, va bene, per loro conto, ma noi l'integrati siamo qui per lavorare tranquillamente. Un lintegrato non è un assassino. Un lintegrato è chissà alta delle sei di mattina, delle quattro di mattina, per andare a cercare lavoro, per collegare nella giornata 15 euro, ma non è giusto questo fatto. E su, 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 sono anche i lavorabili migrati. Oggi siamo qui a Macerata con il buco mezzo degli italiani beneficiati per dire, unisciamosi, unisciamosi per fare una grande battaglia, per dire no al fascismo, per dire no al fascismo. Grazie a mie, grazie a mie, non si può salutare. Macerata, dobbiamo combattere gli italiani, gli immigrati, insieme. Facciamo questo lavoro per vennere e vengiamo compagni. Grazie a tutti.